ciao a tutti ragazzi io sono eros rasatura tradizionale oggi facciamo un video molto particolare in quanto andiamo a verificare le varie differenze tra i rasoi allora come tutti sappiamo esistono vari tipi tipologie di rasoi il primo che vi faccio vedere è un open comb ovvero pettine aperto perché come potete vedere ci sono questi dentini questo è ideale per rasature di tre quattro giorni o qualcosina in più perché avendo i dentini riesce ad andare giù bene e il dentino serve a pettinare il pelo e farlo stare dritto per poterlo tracciare via più facilmente ovviamente anche questo qua è un tre pezzi classico rasoio tre pezzi questo è stato tra l'altro il mio primissimo rasoio il mercur 15 c l'ho comprato tantissimi anni fa quando ancora ne sapevo soltanto l'esistenza tramite alcuni film tramite mio padre che ne faceva uso però il suo è un mercur diverso probabilmente un modello leggermente diverso anche perché cambia il manico e io però all'epoca non sapevo il fatto del pennello di montare insomma in ciotola o in viso e andavo diretto con la schiuma da barba quella in bomboletta quindi con questo mi facevo il mondo danni assurdi comunque chiusa parentesi su questa piccola cosa ci abbiamo anche altri rasoi questo è un secondo rasoio una seconda tipologia si apre a farfalla con questa apertura così si chiama farfalla e poi come potete vedere ci sono questi numeri voi direte che cosa serve serve per la regolazione ovviamente per regolarlo bisogna lasciarlo aperto e si porta il numero in base al numero che noi scegliamo tipo da 1 a 9 cambia adesso proviamo a vedere se se mettiamo 9 per dire il massimo andiamo a mettere il massimo come potete vedere si sono alzati qui all'interno delle questi questi cosini qua questi cosini qui qua sotto si sono alzate adesso andiamo a verificare che dovrebbero tornare bassi si dovrebbero abbassare girando indietro esatto come potete vedere adesso sono scomparse non ci sono più questi quattro cosini servono per alzare la lametta e aumentare il gap ovvero l'angolatura di taglio insomma più alto più basso poi in base a come uno vuole fare perché di solito quando lo utilizzo lo utilizzavo diciamo con un 4 o 5 per il pelo verso del pelo poi lo abbassavo di uno e andavo in obliquo e poi lo abbassavo ulteriormente andavo incontro pelo tutto dipende dalla tipologia poi esiste anche questo che è una specie di diciamo non sciavette ma senza manico infatti si utilizza in questo modo si utilizza così si va ad utilizzare in questo modo qua io l'ho rimanicato con colori diciamo simili o comunque caso quello che avevo per avere più stabilità e più grip perché la prima volta che l'ho utilizzato in zona qui mi ha preso e mi ha fatto un pizzicone mi ha tirato via un po di po di pelle anche se è brutto da dirsi e anche questo si svita da qua così si toglie e quasi va a mettere la lametta poi si chiude e basta il gioco è fatto una volta che lo si chiude ovviamente non si può sbagliare io stavo sbagliando ma non si può sbagliare perché qua c'è la scritta mentre da questo lato ci sono i solchetti per far entrare il porta lametta questo è molto comodo però più per rasature secondo me con barbe un attimino più lunghe non come il mio pizzetto ovviamente è un po po meno quindi per capitolando abbiamo fatto vedere 15 c lo chavette e irregolabile poi c'è questo che è un wallet c'è anche scritto non so se riesco a farlo leggere c'è anche scritto questo praticamente cos'è è un rasoio come potete vedere monolama cioè la lametta si va a inserire qui si aprono le guide si aprono le guide un attimo ecco dove tu praticamente con questi pezzettini diciamo che vedete che sporgono lì si va a fissare la lametta e poi per bloccare si utilizzano queste due levette poi si tira in giù questa leva e come potete vedere è pronto così permette la movimento della del porta lametta perché in giù così invece lo blocca questo rasoio ha una come si dice una chicca perché se potete riuscite se riuscite a vedere qui c'è una specie di fessurina qua ci va infilata una coramella apposta che quando hai la lametta dentro lo puoi scoramellare in questo modo portando il rasoio avanti indietro questa quasi gira da sola e ti vai a fare il filo della lametta quindi molto comodo alcune cosa poi adesso tiro fuori un pezzo forte sempre stando nella tipologia double age questo per me è molto 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 importante come rasoio perché me l'ha dato mio padre ed era di mio nonno questo avrò come minimo quasi 100 anni come minimo questo rasoio qua io l'ho già utilizzato l'ho pulito disinfettato lucidato più possibile però cercando comunque di mantenere la sua antichità cioè non ho voluto come mi hanno consigliato molti nei gruppi rifarlo ricormare eccetera perché non avrebbe senso a me essendo che comunque era di mio nonno io non avendolo purtroppo conosciuto perché mio nonno è morto quando mio padre aveva 18 anni quindi non ho avuto modo di conoscerlo però avere questo in mano è un po come averlo vicino e niente poi l'ho provato comunque anche questo c'è un bel gap bello aggressivo perché è bello stondato e la lametta esce abbastanza infatti bisogna fare molta attenzione all'angolo che si dà perché è abbastanza tostarello adesso c'è un'altra tipologia a parte di rasoio che è la mia una delle ultime conosciute è una di quelle cui mi trovo da dio che sono i veri mano libera scusate se vedete sulla lama la sporcizia ma in realtà è olio perché voglio evitare che si crea l'ossido infatti non l'ho tolto per fare questo video non l'ho tolto però questo comunque un 6 ottavi la mulatura come potete vedere molto sottile quindi dovrebbe essere un full hollow poi so ancora io imparando le diciture di queste molature perché comunque e questa diciamo che molto adatta per tutte le barbe insomma perché essendo comunque molto molto sottile tira via tranquillamente qualsiasi tipo di barba io per dire con un 6 ottavi diverso da questo che ha la stessa mulatura ho tirato via la barba di due mesi a natale dell'anno scorso quando avevo fatto la il november no shave praticamente tutto l'intero mese di novembre non mi sono arrasato poi ho avuto il trasloco infatti siamo abbiamo cambiato paese e quindi ho dovuto aspettare aspettare ho fatto la fine l'ho fatta natale l'ho rifatta natale infatti se andate a vedere il video della sbarbata natalizia liceo col barbone bello grande ovviamente non pieno perché io purtroppo qua sulle guance cioè i buchi però vabbè e quindi mi sono divertito poi come non potrà mai mancare la mascotte la farò vedere sempre alla nausea non mi interessa ma farò vedere e quindi niente noi ci concludiamo qua questo piccolo video di questi rasoi diciamo voluto fare questa cosa questo questi video così infatti ce ne ho già altri in mente di varie cose un po per così per variare un po gli argomenti e portare cose nuove al canale e farlo cercare di crescere un pochino e far sì che l'attenzione non cale più di tanto insomma quindi se vi è piaciuto questo piccolo video non lo chiamo tutorial perché in realtà non è un tutorial ma è solo una variazione di rasoi che si possono avere e se vi è piaciuto mettete un like un bel pollicione in alto e condividete commentate e soprattutto iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina ciao ragazzi